Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi per il progetto Academy promosso dalla Camera di Commercio dell'Industria Italiana in Polonia parleremo del processo di Talent Acquisition. Ma prima di addentrarci nell'argomento interessante della Talent Acquisition lasciate che mi presenti. Mi chiamo Sandro Guidi e sono appassionato di risorse umane da circa 20 anni. Da 17 vivo e lavoro in Polonia. La mia società si occupa di HR Consulting, il che significa Recruiting, Executive Search, Gestione dei talenti, Gestione delle carriere, Formazione e HR Tech, che significa anche Predictive Analytics e Intelligenza Artificiale. Bene, detto questo direi di iniziare subito parlando di quello che si intende per definizione con il termine Talent Acquisition. La Talent Acquisition può essere definita appunto come il processo di ricerca e gestione dei talenti all'interno di un'organizzazione per esigenze presenti e future. Si capisce quindi che il processo di Talent Acquisition è un processo dinamico, non statico come il tradizionale Recruiting. Andiamo quindi a definire un po' le differenze tra quello che è il Talent Acquisition oggi e il Recruiting in termini tradizionali. Diciamo appunto che il Recruiting è un processo statico che risponde a un'esigenza immediata. Ho bisogno di una risorsa, la trovo e una volta finalizzato il processo la risorsa è inserita. La Talent Acquisition invece è molto più dinamica, molto più strategica, molto più circolare e richiede strumenti e strategie ad hoc per sviluppare correttamente il processo che si andrà a identificare brevemente. La Talent Acquisition è quindi un processo proattivo rispetto a un processo reattivo che è quello che identifica nel Recruiting. Richiede quindi competenze specifiche che vanno messe in gioco giorno per giorno. La Talent Acquisition richiede che l'azienda faccia un investimento molto importante per quello che riguardano le attività di branding. Oggigiorno i processi e il paradigma tradizionale candidato azienda viene completamente stravolto. Che cosa si intende? Che se fino a qualche tempo fa il candidato era l'unico soggetto che doveva fare buona figura in un processo di Recruiting con l'azienda, ora è invece l'azienda che è in un processo di Talent Acquisition diventa un portatore di interessi molto importante. È l'azienda che deve fare buona impressione sul candidato in modo tale da attrarre le migliori risorse e convincerle a ingaggiarsi in un processo di Recruiting. Ma come lo può fare? Lo può fare sostanzialmente con alcuni strumenti che vanno dall'employer branding alla capacità di comunicare la propria cultura aziendale e a tutta una serie di attività che oggi possono essere intese con un approccio nuovo e del tutto diciamo disruptive che è quello del design thinking. Andremo a parlare di design thinking tra breve ma permettetemi ora di concentrarmi su alcune delle difficoltà o delle sfide in un mercato del lavoro molto complesso come quello di oggi. Innanzitutto la competizione per i migliori candidati ha raggiunto dei livelli molto elevati per cui una volta che un'azienda riesce a raggiungere il candidato che per quella specifica posizione detiene tutta una serie di competenze tecniche, di soft skills e sposa quelli che sono i valori aziendali la problematica più grande è quella successiva ovvero quella di trattenere le risorse e trattenerle in maniera engage quindi motivate. Per fare questo le aziende utilizzano un approccio che è quello della gestione dei talenti di cui però non andremo a parlare oggi. Mi vorrei soffermare invece su quello che è il mercato delle aziende e del lavoro oggigiorno e è un mercato complesso in cui molte generazioni devono convivere all'interno della stessa azienda a partire dai baby boomers, la generazione X, i millennial, la generazione Z. Sono tutti portatori di interessi con esigenze e gestione della propria career che viene fatta in maniera molto diversa all'interno dell'azienda per cui le risorse umane sono soggette ad affrontare un problema molto più complesso che è quello dell'approcciare i singoli portatori di interessi in maniera diversa perché la comunicazione, la richiesta di feedback, l'engagement di un baby boomer piuttosto che una persona diciamo millennial è sicuramente diversa dagli altri portatori di interessi per cui come vediamo una complessità maggiore. Inoltre è un mondo completamente cambiato che ha a che fare con digital transformation piuttosto che la gestione del mondo completamente cambiato anche dal covid risulta particolarmente complesso e richiede che le aziende adottino un approccio di formazione continua e di gestione dei feedback per le persone che fanno parte dell'organizzazione in maniera molto particolare. Queste quindi sono le sfide che oggigiorno le aziende devono affrontare per gestire un processo di talent acquisition. Ma quali sono gli strumenti che hanno a disposizione le aziende? Beh, nell'ultimo periodo sono nate molte start-up innovative che lavorano molto su quello che è l'employer branding aziendale, che forniscono sistemi di tracciamento delle candidature come gli ATS, che hanno a disposizione i sistemi di parsing per la gestione dei CV e tantissimi altri strumenti che vanno dal crowdsourcing piuttosto che il social branding che permettono alle aziende sostanzialmente di cominciare a gestire la talent acquisition in maniera più strutturata. Che cosa fanno altrettanto sul mercato del lavoro i recruiter e gli headhunter? Si adeguano? Si adeguano sostanzialmente con un approccio, almeno quello che noi utilizziamo ultimamente, di candidate experience. La candidate experience è sostanzialmente la gestione della candidatura all'interno di un processo di talent acquisition fatta in maniera diversa dal recruiting tradizionale. Sostanzialmente richiede un lavoro in parallelo fatto dalle società di headhunting o recruiting insieme alle aziende. Le aziende devono essere soprattutto in grado di comunicare la propria cultura aziendale, devono essere in grado di ingaggiare le persone correttamente, devono essere in grado di creare un pool, un serbatoio di talenti da cui attingere nel momento in cui si verificano determinate esigenze e le esigenze come sappiamo possono cambiare in funzione delle strategie, in funzione degli stimoli esterni. Ecco che quindi il ruolo delle società, una società come la nostra ad esempio, nella gestione della talent acquisition utilizzando un approccio di candidate experience è molto importante. A ulteriore conferma di quanto detto, le aziende più strutturate hanno cominciato a implementare un sistema ancora più complesso che quello della candidate journey che racchiude sostanzialmente un processo che può essere più o meno strutturato ma che sostanzialmente ha tre fasi. Le tre fasi sono sostanzialmente la fase di attrazione dove si gioca la partita più importante e dove c'è la competizione più alta da parte di tutti i player del mercato. Sostanzialmente le aziende utilizzano canali come Twitter, come Facebook, come LinkedIn, come Glassdoor, come Indeed per svolgere questa prima fase di canalizzazione delle candidature. Le aziende più disruptive e più strutturate utilizzano anche un approccio che è così definito di gamification, soprattutto le aziende IT e le Big Four. La seconda fase è la fase di coltivazione che è la fase più importante del funnelling, della canalizzazione del processo. In questa fase le aziende hanno a disposizione tutta una serie di strumenti di comunicazione molto importanti che vanno dall'employer branding ai carrier site, piuttosto che le attività di interazione online con i candidati. In questa fase sostanzialmente la comunicazione, il marketing e le risorse umane lavorano insieme per contribuire a raggiungere un obiettivo comune. La terza fase, che è la fase sostanzialmente di indirizzo delle candidature all'interno dell'azienda e quindi è la fase finale del funnelling, sostanzialmente viene organizzata utilizzando strumenti più o meno sofisticati come gli ATS o i sistemi di CRM che permettono già di canalizzare all'interno dell'azienda i candidati più promettenti per quelle determinate posizioni. Ecco, le aziende più sofisticate utilizzano anche sistemi di predictive analytics e di big data in modo tale da gestire in maniera ancora più dinamica il processo della talent acquisition. Infatti vengono fatte tutta una serie di verifiche e di analisi statistiche sulle performance presenti e future delle persone in modo tale da anticipare i bisogni dell'azienda. In questo modo le attività di talent acquisition possono essere riviste e ottimizzate per rispondere a esigenze di mercato che possono variare per determinati tipi di sollecitazioni esterne. o semplicemente cambiamenti dovuti a business strategies. Ecco, io vorrei concludere questo mio intervento, questa piccola pillola HR, prendendo a prestito le parole di un collega ed hunter, recruiter italiano, che recentemente su LinkedIn ha scritto che non esiste la patente per guidare le risorse umane. Io credo che oggigiorno il ruolo degli HR sia sempre più importante e pieno di responsabilità. Aggiungo dicendo che è vero che non esiste la patente per guidare le risorse umane, ma una patente servirebbe. Servirebbe perché la gestione corretta dei processi di talent acquisition associati alla Candidate Journey sono delle sfide avvincenti e noi come professionisti HR dobbiamo contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione della Candidate Experience insieme alle aziende clienti. Ecco, vorrei concludere dicendo che se il video vi è piaciuto e vi è interessato, mi piacerebbe che ci scriveste alcuni commenti per identificare altre aree HR che potrebbero essere temi per nuovi video. Grazie a tutti.